Buongiorno e benvenuti da Borsare Strumenti Musicali. Oggi vi faremo vedere il flauto Yamaha YFL211. Questo flauto ormai è diventato negli anni un punto di riferimento per la maggior parte degli insegnanti perché offre una qualità e una stabilità di meccanica veramente incredibili. Devo puntualizzare che esiste anche il 221 che è esattamente identico ma non ha la chiave del mistrondato. Come potete vedere il mistrondato è questa chiavettina qua che praticamente quando vado a schiacciare il tasto del Mi va giù anche metà parte del tasto del Sol. Questo favorisce chiaramente una migliore legatura di questa nota Mi una migliore internazione della nota Mi che se no avrebbe praticamente un colore di suono più simile a un armonico rispetto invece al flauto senza come potete vedere che qua non c'è nessuna chiave e vi volevo fare anche sentire un po' questa differenza proprio nella difficoltà nel legare il Mi. Allora questo è il flauto senza il Mi snodato. Ecco se voi sentite il colore del suono del Mi è un suono molto più sporco e io nel suonarlo faccio molta più fatica a prenderlo. Questo invece il 211 col mi snodato si lega mille volte meglio ed è veramente anche più facile riuscire a realizzare questo tipo di legatura. Quindi niente questo flauto è offerta veramente incredibile quest'anno c'è anche la promozione a tasso zero in collaborazione appunto con la Yamaha è un flauto in alpaca argentato, fuori chiusi, sol spostato, mi snodato, discendente al DO. Per la poca differenza di prezzo tra l'YFL 221 che come vi ho detto non ha il mi snodato è sicuramente il prodotto più conveniente. Vi farò giusto qualche nota per farvi capire il colore di suono di questo bellissimo flauto. Niente, vi aspetto in negozio per venire a provare questo strumento e vi invito a fare tanti acquisti da internet. Grazie e a presto!